Tommaso Foti, protagonista a Roma con Fratelli d'Italia, negli incontri con il Presidente Mattarella per la formazione del nuovo governo. Che esperienza è stata? Esperienza interessante, sotto il profilo istituzionale sicuramente una esperienza che mi mancava, quindi diciamo che ho aggiunto un tassello a lungo curriculum vite. Per quanto riguarda gli aspetti pratici, noi abbiamo chiesto le elezioni, lo scioglimento delle Camere perché riteniamo che la formazione di un nuovo governo da parte di gente che fino al giorno prima era su sponde opposte, sia sotto il profilo del sviluppo economico, sia sotto il profilo dell'ambiente, sia sotto il profilo della giustizia, Beh, vuol dire soltanto che nasce un governo di compromesso, neanche storico, ma questo è veramente un compromesso poltronaio, fatto per salvare lo stipendio a un po' di gente per qualche mese. Ecco, la Meloni ha parlato di portare in piazza gli italiani nel momento in cui ci sarà il voto di fiducia. Beh, intanto noi diciamo che vorremmo portare in piazza a Pecorare al 31 agosto dalle ore 18, che diventa poi una delle prime manifestazioni di protesta contro questa vicenda in Italia. Poi sicuramente il giorno del voto di fiducia a piazza Montecitorio organizzeremo un presidio di protesta, ovviamente con i tempi che verranno dettati dall'attuale crisi politica, perché poi attualmente Conte è un presidente incaricato, non è un presidente che ha ottenuto la fiducia dalle Camere. Ecco, Fotti ha conosciuto i diversi protagonisti del partito dal Movimento Sociale a Fratelli d'Italia, Almirante, Fini, la Meloni. Qual è il meglio? Chiaramente Almirante era un personaggio irripetibile in una fase politica irripetibile. Fini è stato, piaccia o non piaccia, io poi ci ho anche litigato, ma non posso negare la verità storica, Piaccia o non piaccia è stato colui quale ha portato la destra politica italiana al governo. La Meloni è stata quella che, dopo il disastro dei Fini, ha rimesso in piedi la destra politica italiana. Sono tre personaggi che hanno fatto ognuno per la sua parte la storia, sicuramente quello di mezzo non ha fatto un gran lavoro.